Togliere la gestione dei cinghiali ai cacciatori e affidarla a esperti della fauna selvatica. La proposta arriva dal WWF Abruzzo. Le immissioni a scopo venatorio iniziate dagli anni 50 hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale nel creare la situazione di espansione e crescita delle popolazioni di cinghiale. Non sono le considerazioni di associazioni ambientaliste, osserva l'associazione in una nota stampa, ma le conclusioni di diversi studi e rapporti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, l'organismo governativo deputato istituzionalmente a effettuare ricerca sulla fauna selvatica e a emanare pareri tecnici a favore delle pubbliche amministrazioni. Evidente quindi la responsabilità storica sulla proliferazione dei cinghiali, delle associazioni venatorie e delle amministrazioni pubbliche loro compiacenti. Il problema è che fino ad oggi la gestione dei cinghiali non sia stata affrontata in termini scientifici, ma esclusivamente in termini di ricerca del consenso della lobby dei cacciatori. Imputare alle aree protette la responsabilità dell'aumento della specie, afferma il WWF, è una sciocchezza che non ha alcun fondamento. Chi si occupa di gestione faunistica sa che i cinghiali si muovono in aree di circa 2-3 chilometri di raggio. Andrebbero fatti quindi degli studi sul posizionamento delle zone di ripopolamento e cattura e delle aree cinofile distribuite a macchia di leopardo e create proprio dagli ambiti territoriali di caccia con l'avalo delle province. La Santa Alleanza stipulata in questi anni tra cacciatori e Regione Abruzzo ha portato al disastro nella gestione faunistico-venatoria, ha dichiarato Luciano Di Tizio, delegato regionale del WWF Abruzzo. L'esempio più evidente, prosegue, è proprio la gestione del cinghiale, inadeguata e carente sotto il profilo tecnico e organizzativo. La Regione Abruzzo non da oggi è incapace di pianificare e coordinare le attività faunistico-venatorie. Da anni è priva di un piano faunistico aggiornato e non si è dotata dell'osservatorio faunistico regionale previsto dal 2004 e mai realizzato. Chi parla di fauna, conclude la nota, lo fa spesso senza avere dati certi. Come si fa a gestire un problema di cui non si conosce neppure la reale portata? Si conclude così il quesito di WWF Abruzzo. Grazie. Grazie per favore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti